Ci credi che questo ritratto l'ho dipinto solo con due colori? O meglio, due colori, nero e bianco. Questa selezione si chiama Palette di Zorn ed è ideale per rappresentare i ritratti, ma anche nature morte e paesaggi desaturati. Vuoi imparare con me questa tecnica? Ti aspetto domenica 22 gennaio a Roma per 6 ore di pittura insieme. Il workshop si tratterà in piazza di Cinecittà verso gli spazi dell'associazione Spazio Do. Per info e prenotazioni, leggi la caption. Grazie.